benvenuti cari amici su underground si eccoci qui con mono black witch per tentare di portare a chiusura questo ciclo di gameplay per farvi vedere un pochettino le meccaniche di questo mazzo nella partita precedente siamo riusciti egregiamente a sfruttare il loop dei nostri gatti e qualche palo ulteriore questa volta partiamo sempre con quattro terre eccolo mal ligare non è un'opzione che ci aiuta quanto pare sarei tentato di maligare a 5 ma questo mazzo non è già veloce di suo se maligua 5 veramente posso dormire vabbè praticamente non abbiamo cambiato le carte che avevamo in mano a 1 il nostro avversario gioca o golgari golgari mi sa tanto di mazzo brutto non so perché ma il nostro famiglio del calderone e guadagniamo un punto vita dai giusto per fare qualcosa col mano in disposizione le carte avventura sono interessanti proprio perché hanno questa doppia faccia a stia giocando un tricolor bianco verde nero vabbè allora e punta a fare verbi fantastico oh mamma mia e allora cosa possiamo fare abbiamo le nostre carte un po' tappato finchè lo tira poi guarda la mistizia strana io intanto tacco quando arrivano mazzi con più colori veramente non sai mai cosa aspettarti in questo formato perché che cosa sta giocando ecco sta giocando mazzo life game fantastico e vabbè allora mettiamo un'altra creatura con tocco letale vediamo che succede aspettiamo praticamente gli ho tolto 4-5 punti vita non ne ha perso ora è ritornato un punto di prima passaggio leggendario terra base può avere di tutto veramente non so cosa aspettarmi questo continuerò la mia vita come già capito sarà una partita molto lunga oh mamma mia alba di speranza mi mancava questa ok il nostro avversario punta al life game proprio diciamo così il match peggiore che ci possa capitare in un mazzo come il nostro a meno che di ingranare infetizia 2 ovviamente ha 22 punti vita va bene ovviamente non preferisce non tradare perché due tratture ma con tocco letale qua siamo messi veramente ecco proprio non non ci siamo non ci siamo quindi lui guadagna punto e scarto una carta e cosa scarto scarto famiglia pazienza che devo fare tanto ne ho già due ma forse questo volante non attacco di nuovo da finirlo con un 2-2 mi sembra veramente una cosa misera ecco il giuramento su giacca fia eccolo lì ho parlato troppo presto e parlavamo di volanti vero ecco il nostro avversario ha pensato subito bene ecco però però adesso ci penserà due volte prima di attaccare in questo momento qua certamente sta giocando anche di planeswalker perché avendo giuramento di caia mi viene da dire che attenzione il mietitore di mezzanotte se entra è entrato adesso non attacco vedine giustamente mi sa che forse ho avevo avevo un motore di però è un'altra terra evviva va bene ok questa partita si sta mettendo veramente mi fa un danno ma no dai lui guadagna un punto vita e io perdo una creatura non è lui non ha mano per ok mettiamo terra e mettiamo e dentro eccolo lì oh cosa mi va a giocare questo cittadella di bolas questo archetipo mi mancava in questo nuovo ciclo eccolo lì è a posto io adesso ho tre famiglie in mano e non ho una creatura da sacrificare non ci credo adesso sto qua ecco sto a guardare sto veramente a guardare che l'altro mi faccia quello che vuole a questo punto qua perché con Trento un po' di vita e la cittadella in campo e tutte queste creature che generano ha praticamente la versione evoluta del Golgari cittadel che ho mostrato in un video qualche mese fa mi si ritorce contro con delle meccaniche in tricolo oh cacchio questo 7-7 è brutto ma molto brutto e io però qua prima che riesco a venire fuori ok allora manacelo venditore non lo so riesco una carta perché a sto punto qua non so veramente cosa fare ecco e gioco un altro vabbè poco male ho mangiato 6 punti vita gioco un nobile guadagno 3 punti vita quasi sicuramente perché no profetizza è in cerca di qualcosa ma cosa non so cosa si si mi schia il mazzo tira fuori una terra gioco a 7-7 io gli faccio due danni e paro no non buono posso anche aspettarmi in realtà anche in questo momento qua sono a 18 ok la temperatura qua con tocco letale produco il che ci vuole e avessi avessi il mio che li creerà per me sono domani con tutto quel mana direi che sono in un cul-de-sac totale a meno di avere qualche giocata veramente risultato cosa mi va a giocare che Enric hai capito eh figurati adesso guadagnerà punti vita come non ci fosse un domani per carità bello sto archetipo quasi quasi ci studio sopra è anche veramente entusiasmante questa adesso mi mi farà malissimo però io pesco mi farà una trapedina oh ne gioco un altro magari se sopravvive perché in questo momento qua eh motore di cardro ha tutto quello che gli serve ma la base complicata ma il potenziale c'è eh poi ovviamente incantesimi che fanno guadagnare punti vita sì 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 è una versione evoluta modificata ovviamente per il nuovo per il nuovo formato ecco quindi vincolo di profetizza paga due pesca tre mi guadagno un'altra creatura per pescare sì sì ovviamente adesso shuffler profetizzerà due per vedere cosa c'è in cima interessante interessante devo dire che complimenti per il mazzo perché lo ha costruito bene una bella idea mi dispiace doverlo dire ma è una bella idea lui continua a pescare guadagnare vita fare cose lui gioca un altro 77 e vabbè qui tocca parare perché sennò qua moriamo male due danni e soprattutto due punti vita per me io paro perderò uno e pescherò e niente e io continuo a non vedere le carte chiave che mi servono ok questo assolutamente da giocare avrei preferito altro ma la vendetta dei corvi magari lo giocherò posso anche attaccare chi lo sa magari portarlo basso di vita non si può usare la cittadella e riesco in qualche modo a anche perché non ha dei drop bassissimi eh a parte il gigante tanto lui sempre modo di farmi scartare carte niente l'artefatto della vita non lo vedo eh comunque fa già bene che non ha degli strumenti per residiare il cimitero in compenso c'è roba per spaccare tutto va bene oh guardalo qua auguriamoci con l'abbiniente per farci scartare un forno non è detta ancora l'ultima non è detta ancora l'ultima adesso mi picchia per tanto tanti danni quindi faccio ben 4 danni lui me ne ficca 7 ma lui va a 10 va a 10 e non è ancora detta eh però cosa fa lo pompa a dismisura ma non per farlo tante papagne vado a 9 e mi sa che non la tiro più su cosa ah no eccolo lì ciao a tutti i permanenti per farmi l'effetto della cittadella no peccato ce la stavo quasi per fare niente da fare ci si rivede presto qui su underground si sconfitti ma ad un avversario veramente capace alla prossima che c'è che c'è che c'è che c'è Grazie a tutti.